No, 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 continua pure, continua pure Ma scusami, quelle mosse lì non sono quelle della serie tv, come si chiama? De... De O.A. Eh, De O.A., De O.A. Ma perché li stai facendo? Sai mantenere un segreto? In pratica stanotte in sogno ho ricevuto il sesto movimento con cui posso andare in un'altra dimensione totalmente da solo Allora, innanzitutto sono cinque movimenti, non sono sei e poi è una serie tv, è finzione non è che se tu fai movimenti, tutte ste mosse, ti teletrasporti Ah sì? Va bene, sta a vedere allora Vediamo Si, frappi A oppure Ssssshh Ufff Ufff Oh! But! Hiiih! Se nella mia disco SEEEEEEEEEEEEE Emo come tu vanno a casa?